Visco pagare una lifanza di Raiden invece di pagare una PS5 Pro, ma te costa di più amico mio Mi dispiace ma io il problema lo vedo nella comunicazione E' di questo che stiamo a Gakure Abbiamo parlato praticamente solo del discorso problema comunicazione PS5 Pro è una correzione Dare 4 anni dopo quello che con un marketing sconsiderato Era già stato promesso all'uscita di PS5 Un prezzo aumentato e raffrontato al prezzo originale Uscita 4 anni prima Quando il prezzo del gap tecnologico sarebbe dovuto essere assorbito dall'evoluzione E spremere la fanbase Certo lo fa anche Nintendo Ma non a questi prezzi E producendo buoni giochi è cosa che Sony non fa Sei stato un po' categorico Un po' arrabbiato diciamo Però Capisco la rabbia Perché effettivamente è una questione di comunicazione Percezione del prodotto E permettersi di proporre un prodotto Come se fosse leader di mercato Non solo incontrastato ma incontrastabile Esatto Cosa che non è Ecco questo non è sicuramente Poi il fatto di produrre buoni giochi in realtà Quelli che ha fatto Sony sono tutti bei giochi No finora Tranne Concord Ma non si può dire che i titoli first party Sono usciti su PS5 E ce ne sia uno veramente brutto Non mi sta sovvenendo Concord Concord l'abbiamo detto Ma Concord Lasciano bene Concord è annullato Il problema non è Non è E quanti Ecco E quanti Ma quelli che sono usciti Sono di qualità Quindi non mi sento dire Che non riescano a produrre bei giochi Anzi E' proprio perché la gente si aspetta Che Sony faccia ancora bei giochi Che non ne vedono E si incazzano E questo è il discorso Oh E basta ragazzi Fossi ancora Minchia Tutto questo discorso Dà ragione a quello che dicevo A inizio di questa generazione Ragazzi L'ideale sarebbe Avere più piattaforme Non dico tutte Perché l'ideale sarebbe quello In realtà Ma avere più piattaforme E non fissarsi con una piattaforma Perché poi Quando vi tradiscono Perché vi sentite tradi Ve la sentite Buttate al culo Se Sony non fa più i giochi Se Nintendo fa un'altra cosa Se Microsoft Però Fa le esclusive Su Playstation 5 E che ve fotte Parteggiate per questo O quel pezzo di plastica E non vi godete un cazzo Invece Siate aperti Sia Xbox Che Playstation Che PC Che Switch Se potete farlo Perché è l'unico modo Veramente per giocare A tantissime cose Se no Arrivate a dei compromessi Ma parteggiare per una consola Avete visto dove porta A rimanere poi Delusi Delusi Perché poi Quando la console vi tradisce Vi sentite come la squadra del cuore Che non gioca più bene E che se ne fotte i tifosi Questo è E che cazzo ve lo fa fare Per un pezzo di plastica Scusate Dice Tati Lato Xbox Poi non siamo messi meglio Non so se avete letto Il report di Shreira Su quello che sta succedendo All'interno di Xbox No Non ho letto Siamo stati Completamente assenti In questi due giorni Non ho capito Ma di cosa si tratta Vabbè Comunque in generale Anche come produzione di titoli Quest'anno Se noi pensiamo Produzione di titoli Xbox Quest'anno Quanti ne abbiamo Pochi pure quelli Cioè Abbiamo Hellblade 2 Eh Ci devo pensare Un attimo Perché ormai Anche Call of Duty È interno Xbox Però Però mentre Mentre per Microsoft C'è stato quello State of Play Vabbè State of Play Come si chiamava Eh Micro Xbox Showcase Showcase Ecco Che è stato pieno Di titoli Durante la Gamescom Ci ha illuminato Ci ha fatto pensare bene Per l'immediato futuro E anche per il futuro Un po' più prossimo Più remoto E Sony Latita anche in quanto A comunicazione Di nuovi grossi titoli Che dovranno uscire Anche fosse nel 2025 Infatti Che è successo Che questo Ghost of Yotei Wow Bomba pazzesca Perché Rispetto all'amoria Che c'è stata recentemente Un Ghost of Yotei Sembra una cosa incredibile Magari lo sarà E attenzione Però Tant'è vero Che ha risollevato Le sorti Di un intero State of Play Che per il resto È stato mediocre Tutti abbiamo pensato Vabbè Non è stato così male Perché c'è stato Ghost of Yotei Sì Però sostanzialmente C'è stato quello Più altri titoli La cui maggior parte Uscirà anche su Xbox Quindi Shreger parla Di una situazione Confusionissima All'interno dell'azienda Con la strategia di Microsoft Che cambia ogni momento Non riesce a decidere Una direzione precisa Vabbè Microsoft sta prendendo Strate diverse Quello è Quella è una cosa Molto diversa però Perché quella è una cosa Organizzativa Secondo me Sony Quello che deve fare Tranne nell'ambito Live Service Lo sa Però sta sbagliando Comunicazione Sta cambiando La percezione Da parte del pubblico In negativo E Ha sbagliato Delle mosse Microsoft invece Si sta riorganizzando Tant'è vero Che ci sono state Anche delle riorganizzazioni Al vertice Tra Sarah Bond Phil Spencer Che è salito Di livello Lead of Xbox Adesso è Sarah Bond E poi l'altro Come si chiama Booty Che è diventato Responsabile Sì Quindi C'è stata una riorganizzazione Possiamo anche capire Che queste cose Succedano così Ma Microsoft Sostanzialmente La stiamo aspettando Al varco Nel senso che Deve ancora dimostrare Tanto E lo sta facendo Non puntando Sulla console Ma sul servizio Game Pass E da qui in poi Vediamo adesso Che cosa ci mostrerà Intanto per esempio Quest'anno Nel Game Pass Ci sarà Call of Duty Voglio vedere Che impatto avrà Quali di vedere Che impatto avrà Questa cosa